Buongiorno, la volta scorsa abbiamo iniziato con un primo incontro, l'approccio con la musica e il primo argomento che abbiamo affrontato è stato quello delle note musicali, cioè i suoni che compongono l'arco musicale che noi utilizziamo tutti i giorni. Abbiamo visto in particolare le note, abbiamo parlato di note musicali, abbiamo detto che erano sette, le abbiamo interpretate guardando i tasti di un pianoforte, piccola ripetizione, le note quindi sono il Do, il Re, il Mi, il Fa, il Sol, il La, il Si e poi di nuovo il Do, poi abbiamo visto che continua con il Re, Mi, Fa, Sol e così via. Lo stesso in senso discendente, partendo dal Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Abbiamo anche visto che praticamente questa sequenza musicale si ripete ogni volta, partendo da una nota, le note praticamente sono le stesse, cambia solo quella che noi chiamiamo l'altezza, cioè diventano più acuta, oppure se si va verso il basso, i toni gravi diventano più gravi, appunto più bassi. Le abbiamo rappresentate anche sul pentagramma, quindi abbiamo fatto una prima introduzione del pentagramma. L'intenzione non è quella di imparare il solfeggio, perlomeno l'interpretazione a vista delle note, come farebbe un professionista, però diciamo che l'impostazione è quella di avere un minimo di confidenza, di dimestichezza con il pentagramma. Quindi il pentagramma, abbiamo detto, rappresentato da cinque righe, e quindi quattro spazi fra le righe. Le note sono rappresentate da questi cerchietti e il nome della nota, il nome del suono che viene espresso dipende dalla posizione, quindi se è posizionato sul rigo, su uno spazio, su quale spazio, e man mano che si va verso l'alto, quindi le note vanno verso l'alto, diventano più acute, e man mano che si va verso il basso, le note diventano più basse. Poi abbiamo scoperto che dopo, avendo guardato queste note, e avendoli paragonati con i tasti bianchi del pianoforte, si è visto che poi ci sono ancora altri cinque tasti, o perlomeno cinque all'interno di quelle che noi chiameremo d'ora in poi ottava, cioè dal do al do in questo caso, ci sono cinque tasti, e ancora oltre cinque tasti, quindi ci sono altri cinque suoni, dovremmo immaginare. Per cui, la prima domanda, se abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette a questo punto, perché poi questo qua sarebbe di nuovo uguale al primo, sette tasti bianchi, e poi abbiamo ancora uno, due, tre, quattro, cinque tasti neri, che hanno altri suoni, quindi ha cinque altri suoni, cinque più sette fa dodici, la domanda a questo punto sorge spontanea, ma le note allora non sono sette, sono dodici, e la risposta spontanea è sì, le note sono dodici. Però, per evitare di creare confusione, dato che si parla sempre di sette note, dovremmo capire questi tasti neri a questo punto che cosa sono. Allora, ho rappresentato di nuovo le note, in questo caso, su un altro pentagramma, sono sempre do, re, mi, fa, sol, hanno sempre le stesse posizioni, notiamo, è il do nel terzo spazio, il si sul terzo rigo, il la sul secondo spazio, il sol sul secondo rigo, il fa sul primo spazio, il mi sul primo rigo, il re sotto il primo rigo, quindi lambisce il primo rigo, il do, che scende ulteriormente e si va a posizionare attraversando un virtuale, invisibile pentagramma, un rigo di pentagramma che si troverebbe ancora sotto il primo rigo e che compare solo come segno di trattino, dicevo, e poi ho lasciato uno spazio tra il do e il re, tra il re e il mi, tra il fa e il sol, tra il sol e il la, tra il la e il si, così come sono rappresentati sul pianoforte. mancando quindi il tasto nero fra il mi e il fa e mancando un tasto nero fra il si e il do. E volendoli rappresentare, vi anticipo subito, eccolo qui, ho colmato la laguna in queste battute. Ulteriore nota teorica, notiamo che ci sono delle stanghette che attraversano il pentagramma e lo spazio fra una stanghetta e la successiva si chiama battuta o misura. Ho creato queste battute, a questo punto possiamo definirle così, ho colmato queste battute inserendo quelle che sono la definizione delle note nere. Allora, quando si dice che le note sono sette, si intende dire che i nomi delle note sono sette, ma i suoni che si individuano nell'arco cromatico, nell'arco musicale, cioè tutti i suoni che possono essere suonati nel nostro sistema, cioè tutte le note che compongono, il 99% delle canzoni e delle musiche che noi ascoltiamo è fatto da 12 suoni, quindi 12 note. I nomi delle note, ripeto, sono sette, le note sono dodici. Qualcuno potrebbe scandalizzarsi perché la parola nota viene da notazione, notazione scritta e quindi praticamente è come se ognuna di questi simboli rappresentasse una nota, però qualcun altro potrebbe dire sì, ma questa nota è uguale a questa con un simboletto, un segnetto vicino e quindi praticamente questa non è una nota. Allora, almeno come la interpreto io, illustrandoli in questo modo, questa nota è un DO, rappresenta un DO, questa nota rappresenta lo stesso simbolo DO con un'alterazione vicino, quindi questo è un DO e questo simbolo lo chiamiamo diesis. Quindi in effetti è come se facessi una, diciamo, volessi fare un'ulteriore precisazione all'interno della definizione. Il dato che in effetti quando parliamo di notazione e quindi definisco una nota, io definisco questa come una nota e questa che è anche una notazione, come se avessi messo un accento su una lettera, no, E è una lettera, E con l'accento è un'altra lettera, però è sempre E, e quindi l'ho voluta distinguere. Questa notazione ulteriore, che noi in questo caso chiameremo diesis, quindi ogni volta che vediamo questo simbolo vicino ad ogni nota, che ha un nome specifico, capiamo che il suono che verrà suonato non sarà quello della nota singola, verrà in pensi sarà il suono di un'altra nota, che in questo caso particolare è quella subito successiva. Per farvi, almeno, per come l'ho capito, io vi la illustrerei in questo modo, ecco, giusto per capire la differenza fra nota e nomi di note. Se io vi faccio vedere questo colore, voi direte, e noi diciamo, questo è il colore rosso, se vi faccio vedere questo colore, voi direte, è un colore rosso. E io come faccio a distinguere questo rosso da questo rosso qui, che sono diversi, eccoli qua, li ho messi vicino. Potrò chiamare questo rosso e questo rosso scuro, se definiamo questo come rosso. Oppure definisco questo come rosso e questo rosso lo chiamo rosso chiaro. Quindi sono costretto a mettere un qualcosa che mi faccia capire, quindi un'altra parola, un altro termine, che mi faccia capire se questo colore è più chiaro e più scuro. Ecco, quindi posso dividere rosso chiaro e rosso scuro. Poi sappiamo che, in effetti, fra questa tonalità e questa tonalità, che fra questa tonalità e questa tonalità ce ne sono altre, però noi abbiamo scelto questi due colori, così come facciamo con le note, abbiamo scelto quei suoni, quelle note, e quindi abbiamo detto che fra i due, uno si chiama rosso e un altro lo chiamo rosso scuro. Potrei anche chiamare questo rosso e questo chiamarlo rosso chiaro. Vi do questo tipo di illustrazione perché poi lo vedremo anche all'interno delle note. Un po' come succede quando guardiamo la distribuzione dei colori dell'arcobaleno o quando una luce bianca attraversa un prisma, un prisma ottico. I colori si separano e praticamente abbiamo la distribuzione dei colori che vanno dal rosso al viola. Piccola curiosità, nell'arcobaleno inizialmente, questo era uno studio, il primo studio che fu fatto da Isacco Newton, nel quale individuò cinque colori, e poi per assonanza con le note musicali, perché lui pensava che ci fosse una sorta di assonanza, cioè un principio unico che regolasse queste cose, introdusse l'arancione e l'indaco all'interno dei colori e facendoli diventare sette, infatti, è proprio lui che scrive che è possibile che il colore possa essere distinto nei suoi vari principali gradi. Notiamo che lui usa gradi, così come si usa gradazioni per i colori, e gradi vedremo che poi saranno anche i gradi, che sono anche quelli che individuano le note o perlomeno la variazione delle note all'interno della musica. Quindi i termini che interessano i colori, quindi la luce, sono più o meno uguali ai termini che si usano anche per la musica. I gradi che sono stati individuali erano il rosso, l'arancio, il giallo, il verde, l'azzurro, l'indaco e il violetto scuro, sette colori. Il rosso, chiedo scusa, l'arancio e l'indaco sono stati introdotti proprio per questa assonanza, per il rispetto del principio dei suoni, e quindi i colori sono diventati sette, i colori dell'arcobaleno, con lo stesso principio con cui il suono in un'ottava, quindi da do a do, oppure da re a re, è sempre un'ottava, è graduato in toni. E toni, noteremo, è una parola anche essa, toni, tonalità, è anche una parola che poi si usa in musica. E questa è l'interpretazione che io do al concetto di dodici note, o sette note. I nomi delle note sono sette, le note sono dodici, per me questa è una notazione, sol diesis, la diesis, è una notazione, così come è una notazione, la, quindi questa è una nota, questa qui è anch'essa una nota, la diesis. La differenza sta nel fatto che mentre do identifica, è il nome che identifica una nota, un tasto, per identificare questo tasto, io dovrò usare do diesis, quindi praticamente questi tasti hanno il nome della nota che precede, poi vedremo che poi avete anche il nome della nota che è successiva, però vediamo almeno la nota che precede, più il diesis, quindi se questo è do, questo è do diesis, ed è questo, poi viene re, poi viene re diesis, poi viene mi, poi viene fa, quindi non c'è mi diesis o fa diesis, perlomeno non c'è il tasto nero, quindi non devo individuare un suono specifico, fa, fa diesis, sol, sol diesis, la, la diesis, si, e poi do di nuovo, per cui da qui si capisce che anche fra si e do non c'è un suono specifico. Quando dico che non c'è un suono specifico, non intendo dire che qui ci sarebbe qualcosa, ma il pianoforte non la rappresenta, bensì non c'è proprio il suono, è la nota, non c'è proprio, non esiste la nota, cioè non c'è nessuna nota, nessun suono, fa il mi e il fa, infatti lo stesso pentagramma, come si vede, non ha una rappresentazione del mi diesis o una rappresentazione del fa bemolle. Poi vedremo che il diesis e il bemolle si può aggiungere a qualunque nota, ma questo è un fatto che vedremo successivamente. Al momento la distribuzione è questa, quindi facendo così noi abbiamo dodici note, do, do diesis, re, re diesis, mi, fa, fa diesis, sol, sol diesis, la, la diesis, si, sono dodici. Quindi l'arco cromatico, ecco qui, tornano ancora i colori nella definizione cromatico, perché questa la chiamiamo scala cromatica, perché tutte e dodici le possibili note rappresentabili, quindi scala cromatica, l'arco cromatico, dicevo, è fatto da dodici note, anche se i nomi delle note sono sette e cinque dei dodici sono rappresentati dai nomi delle note con una prefisso, suffisso, diciamo così, quindi con un'alterazione vicina che chiameremo diesis. Perché ho fatto la distinzione rappresentando in questo modo e poi dicendo attenzione, perché io potrei anche rappresentare queste note in un altro modo, perché se io questa nota la voglio far riferire al do, la posso chiamare do diesis, ma questa stessa nota, se la voglio, come dire, appellare e quindi riferire al re, quindi alla nota successiva, cosa che posso fare, dovrò mettere quello che si chiama bemolle. Quindi do diesis intende questa nota, quindi il primo dei due tasti neri. se la riferisco al do e quindi ho alterato, si dice, infatti si chiamano alterazioni questi simboli, ho alterato il do di aggiungendo un diesis, oppure dall'altra parte posso alterare il re arretrandolo e quindi aggiungendo un bemolle. Quindi se vogliamo a questo punto nominarle tutte in tutti i modi, noi queste note potremmo chiamarle do, do diesis, oppure re bemolle, o poi re, re diesis, oppure mi bemolle, poi mi, fa, fa diesis, oppure sol bemolle, sol bemolle, sol, sol diesis, questo è la, quindi questo è la bemolle, la, poi abbiamo il la diesis, e poi, se questo è si, si bemolle e poi do. Quindi noi abbiamo le sette note, che hanno i sette nomi che noi conosciamo, do, re, mi, fa, so, la, si, sette, più altri cinque diesis, e poi se voglio ancora aggiungere altri nove, segnare ancora altri cinque bemolle, dicessette. Quindi in effetti nella definizione, nella nomenclatura, noi dovremmo parlare di dicessette note. Poi è chiaro che le note sono dodici, perché di questi diciassette, cinque sono gruppi omofoni, si dice, hanno un nome diverso, ma hanno lo stesso suono, cioè se io schiaccio questo tasto, e il pianoforte mi illumina di azzurro, mi illumina di azzurro il do diesis, questa stessa nota, che è un re bemolle, se io la schiaccio, mi illuminerà di azzurro anche essa la stessa nota, perché il suono è questo. Quindi la riflessione è nascita dal fatto che noi facciamo un po' di confusione fra nota scritta, nota pura, nome delle note. Per esempio gli inglesi questa definizione, questa distinzione la fanno, loro dicono, per me ognuno di questi suoni, che è il suono dell'arco dei dodici note, delle dodici suoni che noi possiamo interpretare, loro li chiamano pitch, e quindi praticamente per loro dire pitch, forse l'avete sentito, se qualche volta qualcuno parla in inglese, per loro è un suono pitch, uno dei suoni che sono all'interno della possibile gamma di note suonabili, e quindi si chiama pitch. Quando dicono nota, intendono proprio la nota, il nome, il nome. Noi invece abbiamo nota, che individua sia il nome della nota, che la nota, quindi noi diremo sempre nota, quindi se qualcuno mi dice, sol diesis che cos'è? Io dirò sol diesis è una nota, così come re bemolle è una nota, quindi da qui spero aver chiarito tutto il discorso e l'argomento relativo alle note musicali. Quindi riassumendo, i nomi delle note sono sette, le note sono dodici, le possibili alterazioni che possiamo attribuire ad una nota sono o aggiungere un diesis, per cui la nota va a salire, oppure aggiungere un bemolle e quindi la nota va a scendere. Faccio notare, giusto per completare, che questa distribuzione, data sempre dal fatto che ogni nota, avendo un suo suono, diventa sempre più acuta, se vado verso l'alto, quindi in questo caso il pianoforte verso destra, oppure se vado verso il basso, quindi in senso di scendere, se vado con il pianoforte verso sinistra, quindi con l'orecchio ci rendiamo conto che se questa è più acuta di do e re è più acuta di do diesis o di re bemolle, quindi la suono, giusto per farvi capire che cosa si ascolta con ascoltando tutte e dodici le note, ve la suono forzando io la velocità, re, re, re diesis, mi bemolle, mi, guardate i tasti del pianoforte, fa, fa, fa diesis, sol bemolle, sol, sol, i suoni sono gli stessi, sol diesis, la bemolle, la e la, la diesis, si bemolle, si, si, va bene, poi è ancora un po'. Ok. Ok, con questo possiamo dire che è esaurito l'argomento note musicali, chiarito qualche dubbio che normalmente viene, vi rimando a una prossima. Grazie. Grazie. Grazie.